Tutti sanno che quando si incontra nella prateria americana una palla tutta coperta di squame è meglio non prenderla a pedate, perché non è una vera palla, ma è un armadillo che potrebbe offendersi. Lo sanno tutti, forse, ma non lo sapeva certamente un giovane giaguaro che annusando l'aria aveva sentito un buon odore di carne e già pregustava il momento in cui avrebbe catturato la sua preda. Sì, ma quale preda? Non si vede proprio nulla all'orizzonte. Deve essere in quella radura, pensò allora il piccolo giaguaro. Ma la radura era completamente deserta, eppure qualcosa ci deve essere. Io sento ancora l'odore. Aveva davvero l'aria di un mistero, quello in cui si era abbattuto il piccolo giaguaro. C'era un po' di terra smossa proprio lì davanti a lui, ma il giaguaro non immaginò certo che gli armadigli avessero scavato un rifugio improvvisato lì sotto. Evitò anche di mettere la zampa sulla palla fatta di scaglie che stava lì vicino, perché i giaguari non sanno giocare a calcio. E il piccolo predatore si allontanò, deluso. Non aveva capito che quella strana palla era in realtà papà armadillo, e che lì accanto c'erano i suoi piccoli, nascosti sotto la terra smossa. Quando il piccolo giaguaro se ne fu andato, l'armadillo si srotolò pian piano, mise fuori gli occhietti furbi, e tirando un bel sospiro di sollievo, via libera ragazzi, disse allora la sua famigliola più incuriosita che spaventata, era il segnale di scampato pericolo.